Inzaghi ha detto che ha preso la decisione di diventare allenatore dopo aver parlato con lei, cosa ne pensa della decisione di Pippo e quella di Del Piero che ha deciso invece di giocare in Australia, qual è la sua opinione? Io non ho detto questo a Inzaghi, ho parlato con lui, ma gli ho detto che se vuole essere un allenatore ha fatto bene ad iniziare in un club dove è stato per molti anni una società che è per lui un habitat naturale ed è una buona occasione per poi allenare ad alto livello. Invece Del Piero ha deciso di continuare a giocare anche se è in un campionato dove il livello calcistico è differente. Io di lui ho ottimi ricordi durante la mia esperienza italiana e sono orgoglioso di aver trovato di fronte a me un giocatore del suo livello.